Eccoci qua e tornati per la quarta e ultima partita di questa serata, la seconda di questa prima settimana di Amazon University Esports, sempre al vostro fianco Moonboy, Kernan, Alcasterdesk, tre partite entusiasmanti oggi, devo dire, tre partite piene d'azione, l'ultima delle quali molto caotica, molto pesante, molto triestina, perché alla fine i cavalieri di Trieste stanno firmando le loro partite, quella pentakill alla fine con Kyle, mi sono arrivate parole in privato durante la pausa da parte dei sabermaster, dicendo, appena ho preso doppia, io ho chiamato la pentakill, quella pentakill doveva essere mia. E quando la chiami, sai che la legge della buona creanza... Tutti devono fare tutto quello che è in loro potere per concederti una pentakill, ed effettivamente l'ha trovata. Prima pentakill del torneo, tra l'altro, se non vado errato? Potrebbe ben esserlo, sicuramente di questa regular season, non ricordo adesso se durante le giornate di quali le fare ne abbiamo avute altre, ma partite esplosive, firmate alla Trieste, come le hai definito tu, e io devo dire, in questo ruolo che mi è un po' nuovo, alla ormai seconda giornata consecutiva di grida, sto iniziando a risentire, soprattutto all'interno di queste partite, non vorrei arrivare a dover fare questo quarto game con un cast alla Corp's Husband, con la voce soltanto... Dovremo provare a castare in questa maniera, ma non penso sarebbe altrettanto divertente per il pubblico da casa. Scherzi? Non lo so, potremmo provare effettivamente, ma non vorrei dirigermi in quella direzione. Però parliamo un attimo di quell'ultima partita, perché poi alla fine hai chiamato la pausa in maniera molto rapida, molto frettolosa, non so ben perché, non abbiamo avuto veramente molto tempo di discuterne. Detto questo, allora in realtà, perché non ne abbiamo discusso? In realtà il mio chiamare la pausa per la tua indecenza umana è stato un semplice espediente, perché della partita c'era davvero poco da discutere. C'è stata una lotta senza quartiere, si combatteva ogni volta che c'era la minima scusa per generare una rissa, sembrava di essere da me al liceo, ma questo ha lasciato poco spazio al macro, era semplicemente alla fine Better Team Wins. Un gameplay da taverna di GDR, quindi quello dei Cavalieri di Trieste, volano sgabelli alla prima opportunità, ma adesso siamo pronti per entrare in selezione campione della quarta e ultima partita di questa serata. E chissà che come ieri non arriviamo all'ultimo game, che non è altro che la ciliegina sulla torta, quel dolce, quel caffè, quella massa caffè che va a concludere quello che già per adesso è stato un ottimo pasto. Beh, siamo in selezione campione, il primo banno è Victor da parte dei Wizards of Mickey. No, e la grafica andrà corretta, è il Team ZO. Sì, 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 ZO Team, che sta affrontando invece quello, è giusto il Team Iknos, che abbiamo visto perdente ieri per mano dei Wizards of Mickey, tra l'altro. O meglio, non abbiamo visto nella partita disputata off-stream. Abbiamo visto perdente, non abbiamo visto perdere. Corretto. Ok? Corretto. Bannata Samira da parte del Team Iknos e per adesso, finché le grafiche non vengono ripristinate, andiamo a dare una semplice radiocronaca di quanto sta succedendo, anche perché siamo solo in fase di Bann. Già, ancora non ho molto da vedere, devo estendere un pochino lo sguardo per spiare le progressioni all'interno del tuo schermo. Victor Samira, come abbiamo già menzionato, il prossimo banno è arrivato a Kyle, da parte della team, dal lato blu della mappa. Eccoci ritornati nel frattempo in selezione campioni. Campioni che quindi stanno facendo ormai le loro plurime comparsate all'interno di queste partite. Bann di Pantheon arriva a rimuovere dalle mani del braccio, con un notevole gioco di parole, quel potenziale di aggressione, engage, minaccia dal ruolo del supporto. Sì, Pantheon, ne abbiamo parlato, è un supporto particolare. I supporti aggressivi da letalità adesso devono comunque itemizzare verso un mitico da laner, un mitico costoso per la media dei supporti, ma una volta che lo vanno a chiudere ottengono dei risultati fantastici dalla loro e sono curioso di vedere come andranno a riorientare le risorse. Adesso i membri dello ZO team rimuovono Morgana. Morgana è un ban abbastanza interessante, soprattutto considerato che è tipicamente più il campione che magari ti aspetti di vedere comparire in una seconda fase di ban, quelle dove vai a rimuovere campioni che funzionano bene contro stili già proposti. Esatto, vedi il tuo primo trittico, lo proponi, invece no, questo ban di Morgana in prima rotazione può voler darci delle informazioni in più riguardo al team Iknos, che come già detto abbiamo visto semplicemente post nei risultati, non li abbiamo visti giocare, ci saluta anche Leona. Ecco, Leona potrebbe effettivamente essere uno dei pick che veniva setupati dal ban di Morgana, quindi continui a giocartela con gli scambi sulla corsia inferiore. Jin è disponibile, io fossi nello ZO team lo andrei a first pickare perché non ha dei concorrenti di ugual potere considerando il ban di Samira, almeno non nel meta attuale. No, non così semplice trovarli, ma i campioni che si mostrano di grande successo in questa patch per adesso sono molteplici, Amumu uno dei quali, quindi il first pick va a dirigersi proprio verso la triste mummia della giungla. Ti dirò, ormai inizio a vedere Amumu per quanto strapotente un Pokémon bait, ricordiamo che siamo comunque post hotfix della linea di oggetti da tizione di Bami e quindi Amumu è un pick che vede il suo potere quasi totalmente equiparato da un tank inserito anche nella giungla l'avversaria e sono disponibili tutti i tank in meta, c'è Rammus, c'è Nunu, c'è Malphite, arriva Galio alla fine per la corsia centrale, quindi abbiamo utilità. In Galio potremmo vedere anche un delivery system, a questo punto se vuoi rispondere ad Amumu potremmo anche vedere inserito, non lo so, la combinazione Shen-Ekarim tra corsia superiore e giungla. Sì, abbiamo diverse possibilità di muoversi attorno a quello che da parte del team Ictos sembra essere la direzione di un dive team, se non altro per quel Galio, quel gin di cui parlavi è stata la loro prima selezione, Z-Team che si muovono lungo la corsia inferiori adesso con quella selezione di Nautilus, mettendo quindi un altro support bello tankoso nelle mani del braccio, l'ultima selezione sarà forse diretta proprio verso quella corsia centrale di Orianna. Orianna è fantastica perché il delivery system di Amumu è senza ombra di dubbio uno dei più solidi, il più solido sul quale si possa fare affidamento in questo momento, quindi lì appoggio totalmente le scelte in draft dello Z-O team, quello è un over su Timo, dubito venga effettivamente alloccato anche perché non ha troppi attacchi base sui quali andare a lavorare con la sua cecità, unico campione che attualmente applica effettivamente la cecità vera e propria, quella che veniva spesso confusa con la miopia che applicano altri campioni come Queen, Graves, Nocturne e via dicendo. Arriviamo invece Kane dalla giungla, quindi un campione che effettivamente non è un tank ma può andare a gestire molto bene i tank se va a presentarsi nella sua forma rossa, la forma da Darkin, Rust, quindi contro un Amumu e un Nautilus già rivelati un campione che va a mettere molto bene, oserei dire, bastoni tra le loro ruote. Assolutamente, gioca molto bene intorno al sustain, adesso Kane nella sua forma Rust o Darkin o rossa, come la si voglia chiamare, seleziona il succhiasangue, il che gli permette di continuare a entrare e uscire dai combattimenti con anche una riduzione di carica estrema. Considera che Kane rosso con succhiasangue e altri due oggetti mitici, scusami, altri due oggetti leggendari, sfruttando la passiva mitica, arriva ad avere come cooldown sulla sua Q 2,6 secondi. Quindi immagina, Kane, hai mette quello di TFT che se colpisce solo un bersaglio continua a spinnare tipo Beyblade impazzito? Ecco, diciamo che la versione che la nuova pre-season permette a Kane di proporre non è così distante da quella. Beh, potremmo vederlo in azione tra qualche minuto. Nel frattempo, ban seconda fase che vanno a riversarsi sulla corsia superiore. Abbiamo la rivoluzione di Shen e Kled da parte del team Iknos. Fiore è stato il primo invece rimosso da parte dello ZO team. Vediamo dove andremo a muoverci. Probabilmente menzioneresti il fatto che Camilla ancora è intoccata nonostante questa direzione sui duellanti. Alla fine sarà Lulo l'ultima selezione. E i ban su Shen e Kled potrebbero anche abilitarla sulla corsia superiore. Uno dei suoi principali counter, Jax, non è così disponibile e hai Galio a catalizzare la combinazione dell'ultimatum Mextech con l'entrata dell'eroe. Quindi sì, per favore mettete adesso una Camilla nella vostra team comp. Appunto, eccola lì, Brown. Aspettando fino all'ultimo, con la selezione di Brown per raffiancare Jins su quella corsia inferiore, lasciano il counter pick totale alla corsia superiore. Quindi adesso passa l'opportunità nelle mani dello ZO team di raccogliere dalla loro quella Camilla, visto che anche a loro manca un top laner e costringere il team Iknos a dover rispondere su questo lato. Ma sicuramente dovranno adesso svelare le loro carte. AD carry, top, questi due roli dovranno essere rivelati e selezionati. Alla fine sarà Swain. Per la corsia inferiore immagino a questo punto, il che lo mette di fianco a Nautilus, campioni dai forti controlli. Uno Swain che va a premere tanto sul potere magico all'interno di una composizione che vanta Mumu, di conseguenza un campione in grado di amplificare i danni magici in ingresso degli avversari. Serve però adesso il danno fisico e appunto Camille sarebbe una buona soluzione anche qui. Hai un ball delivery system. Seth anche lui fantastico. Idem, ball delivery system, ottimo l'ingresso, danno fisico se lo giochi in corsia superiore, tra l'altro con la build da top laner Seth, quindi il rush di lama del re in rovina e poi virtù della triade. Virtù della triade ricordiamo, passiva mitica, velocità d'attacco. Sinergizza molto bene con la lama del re in rovina, data la possibilità di amplificare il danno percentuale. E devo dire in questo caso Seth mi piace anche più di una prospettiva di Camille. Seth è molto più adatto al contesto da teamfight per quanto riguarda quella che sembra essere ormai l'identità dello Z-O team di agire all'interno di queste zone molto, con una concentrazione di avversari molto ampia. Alla fine arriva l'ultimo pick del teamiclo sarà uno Yorick su quella corsia superiore. Camille che passa in sordina, ma il livello di pressione sulle corsie laterali che un campione come Yorick può offrire va un po' a pareggiare quello di Camille stessa. Ti dirò, sai cosa rende Yorick davvero forte in questa pre-season? Dimmelo. No, te lo stavo chiedendo. No, non lo so. Non neanche io. Ah, no. Nel senso, te lo stavo chiedendo perché veramente no. Cioè, nel senso, è un mistero. In questo momento Yorick devo dire che è in uno stato di bilanciamento particolare. Ok. Perché... Allora, Yorick, qual è la sua identità? Yorick è un fortissimo juggernaut duellante da corsia laterale. Vuole l'1v1, vuole costantemente rimanere a pushare, vuole poter trovare un inserimento comodo quando possibile intorno all'1v1 da costruire con la Vergine delle Isole Ombra, con quello che è l'epitaffio delle isole, la sua suprema. Ma, secondo me, Yorick è l'inserimento più da solo Q possibile nella draft del team Iknos. Ed è qualcosa che può comunque arrivare a sorprenderci, mostrare un pochino il proprio, la chiara considerazione in questa fase del bilanciamento, del metal, il cambiamento, con questa pre-season, un po' come era all'epoca con i cambiamenti delle rune, maestrie, fuse, nel nuovo sistema di rune era, vedi un campione e pensi subito qual è la runa chiave che faccia se succedesse a questo campione. Qual è il mitico chiave per Yorick? Immagino Nientatore Divino. Già, esatto, era proprio lì che volevo andare. Avere comunque quell'opportunità tra, forse oserei dire, le opzioni sono tra Nientatore Divino e Virtù della Triade, se vuoi essere più aggressivo, ma potresti arrivare a soffrire, perché comunque Yorick è un campione che si è sempre basato molto anche sul fatto che può duellare gli avversari, ma deve riuscire a sopravvivere abbastanza per farlo. Non è uno di quei campioni che ti distrugge di danni, è uno di quei campioni che ti duella così tanto che tu non riesci, lo vedi, ti prende a badilate e non muore mai, la sua barra di HP sembra non scendere mai. Il punto qual è nella differenza anche tra Nientatore Divino e Virtù della Triade? Che la Virtù della Triade, l'abbiamo detto prima per set, la passiva mitica è velocità d'attacco. Su Yorick la velocità d'attacco funziona relativamente, perché comunque stiamo parlando di un danno percentuale quando stai attaccando il bersaglio bersagliato dalla Vergine delle Isole che ha un cooldown interno. Quindi stra-accumulare velocità d'attacco non ti sta efficacemente dando più danno percentuale come fa invece set con una lama del rei rovina. Giusto. Invece l'Agnientatore Divino con la passiva mitica della penetrazione ibrida percentuale ti permette di lavorare molto bene anche qualora set dovesse accumulare delle risorse difensive. Cosa che set prima o poi vuole anche fare. Già, assolutamente. E se proprio vogliamo estendere un pochino questo parallelismo che ci siamo un po' creati in draft tra la prospettiva di Michael e Yorick, alla fine la combo con Gallio non è altrettanto potente, però il muretto dove limitare i movimenti di un avversario ce l'hai. Puoi cercare di guadagnare un po' di spazio e rinchiuderli nell'entrata dell'eroe. Ma non ci sei tu. Magari sì. Ah, ok, ok. Quindi ti lanci. Allora, a questo punto spero che la scelta da parte di Cayven in corsia superiore sia Miauric con croma da panda. Perché... Grande affezionato, ovviamente. Ovviamente. Oltre alle mie preferenze personali sarebbe una edge importante nei confronti di set che ha avuto finora delle skin molto seriose. Un gigameca, un dragone arrabbiato. È vero. La skin meme per set manca e quindi flexeresti qualcosa che l'avversario non potrà mai ottenere. Questo è molto vero. Purtroppo set dovrà aspettare ancora un po', però... ce lo posso vedere magari, non so, un prossimo pesce d'aprile, un... O letteralmente ripoffi JoJo. Proprio vesti letteralmente set da Jotaro Cujo. E allora dici, vabbè... Set in cosplay. Eh sì. Alla fine già Urgot con il cosplay da Guardiano Stellare si sta muovendo in quella direzione, la direzione delle fiere dell'artista. Beh, vedremo, vedremo. Da questo punto di vista abbiamo ancora molto da osservare, però... Abbiamo dato un pochino le premesse di queste squadre. Abbiamo visto molto potenziale da teamfight per lo Z-Team con tutto questo E, tutta questa marea di danno maggio che dovrà essere anche supportato e aiutato un pochino da Set con il suo apporto di danno fisico e questo è molto importante perché se Set rimane indietro diventa molto semplice per gli avversari itemizzare per limitare concretamente il potenziale nemico. Per quanto riguarda invece il team Iknos, abbiamo delle identità un po' variegate. C'è la pressione in sideline di Yorick che aggiunge quella condizione di vittoria che non puoi mai andare a perdere di vista. Una nota su Yorick. Abbiamo il mismatch up presa dell'immortale per Yorick contro conquistatore per Set. Quindi a maggior ragione voglio vedere quell'annientatore di vino perché il double dipping di annientatore di vino, proc di annientatore di vino e presa dell'immortale, riesco anche a singhiozzare mentre lo dico ma a finire di dirlo, è qualcosa che mette giù un danno e un sustain di ritorno davvero elevato. Già, già. E però appunto, Yorick è sempre uno di quei campioni che già da... praticamente da quando l'hanno reworkato. Era sempre quella condizione, quella... Ok, c'è questa draft, c'è questo piano di gioco e Yorick arriva come condizione di vittoria esterna. Devi sempre considerarlo come... Il team vuole fare questo, però c'è Yorick. E quell'eco deve sempre rimanere un po' sul retro della testa, sul fondo del cervello da considerare. Senza poi nemmeno andare a considerare la versione di Kain, come andrà a potenziarsi, quanto in fretta riuscirà ad arrivare a quei potenziamenti, quanto impatto riuscirà ad avere, perché Kain, una volta potenziato, una volta trasformato, diventa veramente pericoloso come campione, ma se non riesce a farlo in fretta diventa veramente facile da calpestare. Abbiamo il conquistatore, ma tra l'altro abbiamo Kain contro Mumu, quindi il fatto che sia Rust, la scelta è sicuro in questa partita. Ma appunto, le tempistiche contano tanto. E parlando di tempistiche, direi a questo punto di lasciar decidere i giocatori e la landa sotto i loro piedi. Infatti lanciamoci in quella che sarà l'ultima partita di questa sera, la quarta e ultima partita di questo secondo giorno della prima settimana di Amazon University Esports. Siamo pronti per entrare in game. Eccoci qua sulla landa degli evocatori, Z2 Team contro Team Iknos. C'è un po' di movimento, un lume piazzato e identificato, visto da Sinner e il braccio, che si rendono conto quindi della possibile presenza, ma anche dando consapevolezza ai propri compagni di squadra. Occhio, di là non si passa, altrimenti li vi vedono. Non si passa più da nessuna parte, in realtà. A giudicare dal setup, da quello che stiamo vedendo, abbiamo Kain che vorrebbe startare dai Lama Becchi. Una cosa che Kain era stato concepito per fare. Se ricordi, Kain venne rilasciato all'inizio del meta dei jungler che non startavano dai buff. Era la prima volta in cui era nato a livello di meta lo start dai Lama Becchi. Prima di Kain tutti i jungler startavano dai buff. Qualche mese prima dell'arrivo di Kain arriva questa strana abitudine di iniziare dai Lama Becchi o di iniziare dai Lupi per avere dei patting non convenzionali e giocare intorno alla visione. Una sorta di premonizione. Esatto, perché poi Kain è stato riadattato a questo meta con un kit costruito ad hoc per iniziare da quel campo. Che sia Lama Becchi o che sia Lupi e infatti lo vediamo lì sui Lupi. Uno start quindi molto tranquillo, un'attesa, quasi una sorta di fake leash da parte di Set che aspetta molto tempo attorno a quel potenziamento blu. Una cosa saggia da fare quando si parla di Amumu perché la consapevolezza è che Amumu non abbia startato dal proprio blu dà l'opportunità di invadere ma molto bravo qua Farisca con il suo Galio ad andare in invasione, piazzare Lume, ottenere visione, quindi informazione sull'Amumu avversario che sarà costretto a spostarsi molto rapidamente adesso verso il proprio buff per evitare che possa esserci una sorpresina. E guarda questo patting di Kain. Lupi, Lama Becchi, Krug. Nessun buff ancora toccato. Questo è un patting particolare che vediamo anche dettato dal fatto di aver livellato la ammietitura e la lacerazione e non il passo d'ombra perché comunque non c'è rigenerazione attraverso i muri degli HP. Preferisci giocare grazie al nuovo smite che ti va a premiare su campi molteplici ma soprattutto è un patting che ti permette di avere dopo il reset la durata residua dei buff maggiore possibile. Amumu è stato anche un po' danneggiato da quella breve invasione di Galio che è riuscito a rubargli qualche Lama Becco minore, infatti lo vediamo soltanto 14 CS dopo aver pulito 4 campi invece dei 16 che dovresti aspettarti. Dall'altro lato adesso come menzionato Kain ha completato il clear praticamente intero della sua metà superiore, ha preso quel potenziamento rosso, ha raggiunto il suo livello 3 e avanzerà adesso a concludere anche la metà inferiore portandosi in range per poi muoversi anche a persona con granchi o magari un ingresso sulla corsia inferiore con delle tempistiche ottime e con delle ottime risorse dalla sua. Molto creativo e sarà ricompensato per questo. Parlando di tempistiche ottime, eccellente anche l'ancora da parte del braccio che è riuscito a portarlo in zona franca prima che il quarto proc dei colpi stordenti andasse ad infliggere il controllo annesso e omonimo. Tra l'altro posso dire quanto adoro questa combinazione della botlane. ai Swain, Nautilus ai Swain, lo stratega la mente e il braccio. E quanto adoro a livello di gameplay anche i due campioni perché a Nautilus basta autoattaccare un campione avversario per proccare la passiva di Swain e ritrascinarlo dentro magari una preghiera maledetta. Non che ne abbia mai veramente avuto bisogno perché Sinder per adesso è stato molto preciso con i suoi controlli. Adesso però ci si affaccia sulla corsia centrale, pugno della giustizia, Taunt che colpisce Orianna anche dopo il flash. Questa è una marea di danni che scaricano subito il primo Sam'Go quindi nella tasca di Kain ma in botlane si continua a fightare, flash in avanti da parte di Sinder. Ecco che arriva la A, il danno bonus, la prima uccisione anche per lo stratega di Noxus che adesso costretto un attimo alla ritirata dagli autoattacchi, anzi dalle scudate, portate, cavuate che questo Brown sta portando dalla sua. Due rapide uccisioni disperse da un lato e dall'altro e entrambi i team quindi si trovano in parità. Con una differenza, la kill in corsia centrale ha richiesto comunque l'intervento di Kain attraverso la tana dei Lammabecchi su un'invasione profonda su informazioni che sapevi di avere quindi è stata una cosa che ha richiesto un macro ben congeniato e non è stata neanche messa giù meccanicamente in maniera ineccepibile perché comunque da parte di Kain il rallentamento è stato mancato. In corsia inferiore è stata pura dominazione di lane, è stato un 2v2 che ha risultato in una kill da subito. Ben detto. Corsia superiore nel frattempo l'abbiamo vista procedere in maniera abbastanza lineare, abbastanza tranquilla. Vediamo sì un grande vantaggio momentaneamente lato Morphin, lato Z-Team, lato quel set ma abbiamo visto un'enorme ondata rispiegarsi sotto la torre di Kevin che quindi potrà tranquillamente raccogliere un po' di CS per arginare questa mancanza. Sì, un po' è la parola chiave nella frase che hai detto perché dobbiamo considerare una cosa uno Yorick che sta perdendo la corsia non è di certo uno Yorick felice quello è un flagello nell'inventario di Seth già a cosa sta puntando? Anche lui a questo punto per stare dietro a Yorick andrà di annientatore divino? Potrebbe essere una progressione verso il succhiasangue comunque un oggetto che per Seth torna molto comoda perché c'è il flagello di fianco a quella che la frusta nel frattempo però sembra esserci una visita della mummia triste sulla corsia superiore occhio però perché il livello 6 è già stato raccolto da Yorick e con quella suprema al suo fianco i danni potrebbero essere minacciosi ma non abbastanza, la combo arriva, un rapido 1-2 Marco non fa altro che piangere un po' addosso al suo avversario lacrime corrosive sciolgono il bersaglio, una kill raccolta da Mumu Mumu ha l'astitato di camminata è stata, sì, un'azione divertente da vedere paradossalmente è su Mumu che sei più triste di vedere arrivare la kill se sei nel team avversario perché se Mumu prende vantaggio significa non pagare la svirgolata di build verso il potere magico dell'abbraccio demoniaco e questo è grave un'altra pechiera maledetta che va a segno ancora una volta macinano controlli questa duo dello Zeto team gli avversari del team Ikno sono costretti a giocare in maniera molto difensiva e prudente attorno alle fasi di potere avversario anche perché Sinner con il suo swing, con quel capitolo perduto già nell'inventario sta iniziando a diventare abbastanza minaccioso anche su questi trade molto rapidi capitolo perduto che si tradurrà in tormento di Liandri immagino uh Visin tra le due jungler Nezu già a livello 6 con questo Kainer richiama l'entrata dell'eroe e del suo alleato controlli e danni che vanno a concatenarsi non c'è una facile via di fuga per questo Mumu doppio teletrasporto che però coglie un po' di sorpresa la duo del team Ikno saranno costretti alla fuga il flash sperava di portarlo sul bulbo esplosivo ma lo porta dritto nella shock web di Orianna Morphin lo afferra al volo, lo schiaccia oltre il muro sono due kill raccolte in risposta potrebbe arrivare una terza lo Z2 team è all'inseguimento anche di quel Braum la via di fuga c'è ed è nella direzione giusta a differenza di quel Jin che è costretto a fuggire verso la base avversaria ma sembra che entrambi verranno raccolti e ripuliti da questo inseguimento quattro uccisioni in totale in un batter di ciglia hai ucciso Mumu? quanto ti è costato? tutto questo sì è stata un'invasione decisamente sconsiderata una totale mancanza di rispetto verso le risorse globali stiamo parlando per lo Z2 team di una squadra che ha tre teletrasporti nella loro composizione e tu non hai le risorse per controbattere Iori che si è dovuto ridere e trasportare in corsia Galio non era un teletrasporto utile perché si era già unito all'azione con l'entrata dell'eroe perdi anche il Drago perché comunque Mumu in tutto questo ha avuto anche il tempo di resettare rovina totale per il team Iknos se non altro la corsia superiore ha subito qualche batosta infatti vediamo la torre ridotta già quasi allo scadere della sua penultima placcatura Kevin con il suo Yorek si è dato da fare se non altro a compensare la mancanza che il suo team purtroppo gli ha un po' offerto su quel lato inferiore della mappa data la gemma infuocata ancora le direzioni della build di set restano ignote ma inizia ad essere ancora più probabile la possibilità di quel succhi a sangue anche perché fossi voluto andare verso l'entratore divino avresti immaginato quel punto fulgore più che gemma infuocata Lume piazzato giusto in tempo per vedere una Mumu ancora una volta apparire da oltre il muro è uno scontro diretto che Mumu non sa sta per volgere decisamente a suo sfavore infatti ecco che arrivano i due compagni di Kain al suo fianco rallentamenti che non bastano purtroppo per cogliere a Mumu che grazie alla sua Suprema riesce a guadagnare abbastanza spazio e a portarsi in salvo tra il braccio di Rana o così sembra perché arriva il muro a chiuderlo dentro la Shockwave trascina però che bellissimo flash da parte di Morphin facce sfasciate per trovare la prima uccisione si insegue subito per cercare una seconda magari anche una terza ma la posizione diventa un po' scomoda le risorse sono già state utilizzate e ti accontenti una kill ma quanto su cosa? Team Iknos deve decisamente riconsiderare le proprietà le priorità sull'invasione perché queste aggressioni sono totalmente sconsiderate capisco la volontà di continuare ad accumulare stack per trasformare il prima possibile Kain Kain scusami ma questo voglio dire guarda il tuo inventario non hai niente che al momento ti porti a dire posso combattere contro un tank questo è vero mi dispiace veramente criticarla in questo modo perché ogni volta l'aggressione era partita con un concreto vantaggio numerico ma sempre tramite qualche magheggio che fosse quel doppio teletrasporto quel flash difensivo quella suprema su tre persone riescono a portarsi non solo in posizione franca ma addirittura vantaggiosi i giocatori dello Z o team riescono ogni volta a rovesciare il tavolo addosso ai loro avversari e trovare la via di fuga dove sembrava non essercene nessuna il vantaggio nonostante le 5 uccisioni è a malapena di 600 unità d'oro quindi ci troviamo ancora in una situazione abbastanza precaria ma sta per partire forse un'aggressione su questa corsia inferiore le supreme sono disponibili e Swain non vede l'ora di scatenare quella ascensione demoniaca purtroppo il richiamo era già utilizzato occhio però in top lane adesso set rinchiuso nel muro va a distruggerlo grazie alla sua Q al reset dell'auto attack sfrutta la prudenza di Kain per portarsi sotto torre lo trascina nel range c'è la possibilità di resettare l'aggro da parte di Kain con la sua suprema molta prudenza ma ancora nessun successo trovato in queste azioni decidono di non premere probabilmente vogliono resettare con la suprema il dive sembra che sia con l'intenzione lacerazione un po' di danni dalla distanza ma ancora una volta molta prudenza molta attenzione non vogliono spingersi troppo avanti un aggro della torre che costa due colpi in faccia a Kaven e molta esitazione che sta costando molto tempo anche al T-Mik non so che torna questa top lane in senso che Morphin sia veramente infastidito da tutto ciò no dovrà ok resettare senza dare trasporto quindi probabilmente sarà adesso primo mattone ma avresti tranquillamente potuto puntare all'uccisione non non particolarmente convinto di quanto aggressivo sia Kain per ora o meglio non pienamente convinto di come vogliono tradurre la sua aggressione già sembra che quelle ultime due azioni quel rovesciarsi delle aspettative li abbia un po' scossi perché adesso si è notata quell'esitazione che invece prima non c'era quasi ironicamente quando prima sarebbe stata necessaria abbastanza paradossale come situazione Kain in ogni caso il suo farm è eccellente continua ad essere molto presente e a danneggiare campioni corpo a corpo quindi Rust si avvicina un altro nuovo tentativo di aggressione il muro purtroppo non riesce a rinchiudere Seth che adesso sta scendendo abbastanza basso con gli AQ e questa volta Kain sta ritornando per il dive e ha portato i rinforzi c'è anche Galio dalla sua i danni potrebbero facilmente tradursi in una suprema ma questo potrebbe costargli la vita perché la ultima non è partita in tempo il reset dell'agro non c'è stato quei colpi si accumulano su Kain e questo è un uno per uno che non doveva arrivare ma mai ma neanche per sbaglio nel frattempo teletrasporto sulla corsia centrale per tagliare la strada Aiko Faresca molto bravo con la corsa la velocità di movimento aggiuntiva fornita dalla cappa della nuvola Aiko sta cercando di sfuggire dritto tra le braccia degli avversari la sciocco riesce da attirare un attimo l'attenzione avversaria ottima maledizione della Mumma triste per bloccarne due ma l'inseguimento è pesante lo shutdown arriva nelle tasche di Galio e vediamo cosa riuscirà a fare Mumma adesso da solo contro 3 ma sta arrivando la rinforza della botte flash in avanti con l'ascensione demoniaca ma non c'è il range per portare i danni purtroppo Bardi a capire lampeggianti che bella benda che va a interrompere la fuga ma ancora una volta il passo più lungo della gamba a ferire l'attaccante a Mumma finisce per caderci una splendida splendida difesa da parte del team attenzione di Orianna che era erroneamente occhio mi intrattengo perché qua è arrivato Kane per lottare questa volta non è da solo questa volta è più Rust che Kane è più Darkin che Uomo e si inizia a sentire la pressione due teletrasporti richiamati per cercare di rispondere in qualche modo ottime facce sfasciate schiantato subito il primo avversario il secondo costretto alla fuga Z2 Team se non altro rispondono all'uno per uno c'è un particolare dialetto mandarino dove no che menzionerai dopo quest'azione provocazione che trova perfettamente la concatenazione con il furileggio letale un'uccisione raccolta da Kaven che dà un po' di risorsi adesso anche al top laner del team Iknos un particolare dialetto mandarino dove Nisu si traduce in non uso la R davvero un utilizzo criminale purtroppo del kit a disposizione conquistato il drago arriva Galio ma sembra esserci una volontà di punizione occhio però ai danni di questo set adesso con quell'oggetto mitico completato c'è anche del sustain c'è anche del danno infatti la prima uccisione viene raccolta addirittura da Sinner dalla distanza per Ghiera maledetta che non connette ma l'inseguimento su Brown potrebbe tranquillamente arrivare l'ultimo autoattac gli fornisce una doppia uccisione ma sta iniziando a scarseggiare il mana ecco che arriva finalmente quella R il predatore oscuro di Kane in mezzo a tre avversari vorrebbe trovare il sustain sta cercando di fare del suo meglio per portare i danni alla sua squadra guarda quanto sta sopravvivendo ma non riesce a trovare il colpo di grazia però il mobilizzato con flash in per trovare la kill doppio knock up lascia qui lo ritrascina indietro Feinster non è contento di come si sta chiudendo questa azione apre il sipario cerca gli avversari colpo dopo l'altro ma tutti e quattro vanno a vuoto l'ultimo soltanto si infrange su Orianna senza veramente scalfirla e adesso adesso finalmente ce l'abbiamo il Kane che volevamo vedere nelle azioni di prima non volevo non volevo castarla questa partita continua la minaccia quarto colpo che a malapena non riesce a uccidere anche Seth grazie alla sua rigenerazione riesce a portarsi in saldo ma che partita che azione 21 uccisioni siamo al quindicesimo minuto 5-1-5 per Seth 3-0-5 per Swain e lì dove la partita di prima era rocambolesca questa è caotica questa è una partita dove le direzioni delle aggressioni sono molto meno uniche abbiamo comunque dei binari che continuano a incontrarsi e treni continuano a schiantarci si sopra su quei binari perché il tabellone vede 21 uccisioni al quindicesimo minuto ma le vede anche distribuite in maniera abbastanza importante su entrambe le squadre se vediamo quali sono inoltre i fulcri di potere da un lato ne hai parlato quel set in corsia superiore con succhia sangue un set che vuole inserirsi nei team fight giocare intorno al sustain e ha già anche un secondo scettro vampirico che a questo punto vorrei comunque vedere trasformarsi in una lama del rei rovina è ben probabile vediamo adesso le sorti di questa top lane c'è una grande onda di minion c'è un'aggressione ancora una volta Nizu va a cercare l'avversario knock up al limite del range che permette la concatenazione con il proleggio letale immobilizzato set costretto ai pugni nelle mani ma sarà una salvezza momentanea shutdown conquistato proprio da Rust di suprema ed è uno shutdown importante perché quel flagello lo vuoi tradurre anche tu in un succhia sangue oltretutto pit stop immediato sulla mannaio oscura già parliamo di questo oggetto un attimo perché non l'abbiamo molto visto finora mannaio oscura abbastanza simile alla sua versione precedente ti dà AD ti dà HP extra ti permette di ridurre l'armatura avversaria continuando a danneggiare con danno fisico ai nemici ma adesso ha un effetto extra attaccare gli avversari la quale l'armatura ha raggiunto il massimo delle stack di riduzione infligge danno bonus in base alla salute mancante e adesso attenzione però perché Kevin da solo su questa corsia inferiore potrebbe incontrare una triste sorte ma vediamo evocato l'epitaffio potrebbe voltarsi a fightare no decide di darsi invece alla fuga nonostante i livelli di vantaggio e si possono sentire un po' i danni avversari quindi non c'è da stupirsene un po' di guarigione bonus dalla Q e dalla presa di mortale ma non sarà abbastanza alla fine una trasformazione di Swain porterà facilmente a casa l'uccisione 4-0-5 adesso questo Swain sta iniziando a diventare pericoloso ma occhio dalla distanza si apre il sipario raccolto scuro trovato ma ciò non porterà a niente di più flash utilizzato da Sinire per portarsi fuori dal range nemico è un 4-0-5 che mantiene lo zero nel suo score mantiene Natalia sulla sua testa ma sarà costretto alla fuga Jin ha cancellato la Suprema sul secondo colpo quello mi ha lasciato un po' incuriosito ti sei accontentato comunque di flash e quant'altro sei felice così hai preso anche la stacca di raccolto scuro hai letalità nel tuo inventario e a giudicare dalla presenza delle Clisse spero che il secondo lungo pugnale segretato diventi un collezionista molto probabile ormai quello è il percorso che vediamo tipicamente nelle build di questo Jin torri che per adesso si assestano su un 2-0 a favore del team Iknos mid e top lane sono già cadute e abbiamo visto Kevin star minacciando quella in corsia inferiore ma prima che quella possa accadere sarà Morfin invece a portarsi a casa la torre sulla corsia superiore per dare un punticino da quel lato almeno al proprio team allo Z o team si giusto per tenere anche competitiva la differenza in oro tra le due squadre perché Z o team vediamo quel set gigantesco che conferma la volontà di ramare in rovina con l'arco ricurvo però il resto del team è comunque grosso vedi Orianna che ha 3-4 assist vedi uno Swain 4-0-5 poi però alzi gli occhi al cielo e vedi che sono in svantaggio è già è un vantaggio molto localizzato purtroppo per loro sì quello Swain è minaccioso quel set è minaccioso ma la giungla ha sofferto molto la mid lane deve ancora arrivare a brillare quanto vorrebbe mi piace vedere già un movimento verso le ferite gravi da parte di Aiko che riuscirà a disperdere in maniera abbastanza uniforme attraverso il team avversario grazie ai suoi danni dare grazie alla tempesta di Luden e c'è bisogno di quelle ferite gravi perché il sustain che Rust porta dalla sua diventerà ingestibile a un certo punto se non già adesso non ha ancora chiuso il mitico a quel punto sì diventerà davvero ingestibile ci si inizia però a muovere su questo drago infernale ricordiamo Z2 team ha già due draghi dalla loro questo potrebbe essere un soul point il che aiuterebbe a riportarsi rapidamente verso la minaccia ma in corsia centrale Kaven sta portando il team Iknos a minacciare addirittura la torre del limitore questo prima di essere distrutto dal Daiko però occhio il fight è scoppiato è entrata dell'eroe per cercare di creare un po' di caos un po' di danni un po' di controlli l'ingresso di set trova giusti le facce sfasciate sui carry della bot e della mid avversaria arriva lo smite finale che assicura se non altro il drago nelle tasche di inizio del team Iknos per impedire quel soul point ma le uccisioni vanno totalmente a favorezzare il team che completano quindi la loro carneficina un po' disparata temporalmente parlando uccidono prima Iorik nel tentativo di push tentativo riuscito ha comunque conquistato la torre interna in corsia centrale ma poi quattro uccisioni intorno al drago pagano con un singolo drago quindi anche un prezzo miserrimo da pagare già e adesso guarda lo score guarda il gold praticamente paritario tra le due squadre anzi lo swing c'è stato in favore dello ZO team e soltanto durante questi ultimi secondi grazie alle torri distrutte e conquistate una netta e notevole ripresa che ha dato un po' di risorse a questo Amumu a questo Orianna che adesso vedono anche loro delle taglie sulla loro testa ha permesso un ottimo ingresso ancora una volta dei campioni che già stavano dimostrando quel buon valore pregresso e adesso un tentativo di doppio teletrasporto per inseguire i due membri del team avversario che stavano cercando di mettere pressione sulle torri bell town su tre persone ma ci sarà un follow up la risposta sembra essere no Sina è rinchiusa in questo muraglia senza l'ascensione demoniaca alla sua sarà costretto una stasi non ha nemmeno il flash per portarsi in salvo sarà sicuramente l'agnello sacrificale uno shot down prezioso per il team Iknos ottime risorse guadagnate assolutamente erano sì 700 gold su quella kill 400 di taglia più di 300 dell'uccisione e inoltre hai rimosso adesso che comunque l'ascensione demoniaca è tornata disponibile uno dei principali strumenti per il team fight prolungato grazie a quel dolore di Liandry che va a creare uno shred personale permetta a Swain di ignorare percentualmente la resistenza magica nemica Swain diventa una minaccia anche a livello di sustain perché comunque ti offre sustain prolungato non il dolore di Liandry ma il tuo kit in senso innato la Glessidra di Zonia statistiche difensive Glessidra inoltre una discussione la volevo fare a parte su Glessidra di Zonia è vero della Banshee riguardo a questa preseason perché adesso costano solo 2500 gold hanno una statline più mediocre di prima ma sono molto più accessibili a livello monetario quando hai veramente bisogno di quegli oggetti adesso li trovi e li paghi meno anche perché diciamolo la Glessidra di Zonia quando si parla di quell'oggetto la statline non è mai stata la parte più appetibile dell'oggetto in sé l'importante è avere quella stasi avere quella carta esci gratis di prigione boomer moment una volta la Glessidra di Zonia aveva 120 di potere magico va bene però comunque la prendevi per la stasi 120 di potere magico 50 di armatura e 10 di piuttosto ti fai un Rabadon la facevi insieme piuttosto ti fai due Rabadon la facevi insieme al Rabadon e al DFG DFG questo sì che è un boomer moment grazie DFG per tutti i momenti meravigliosi che ci hai regalato nel frattempo progressione un po' a livello di inventario oggetti mitici ormai completati per tutti appena arrivato anche per Nizu quel succhi a sangue avere quindi addizionale sostenda aggiungere a tutto quello che già questo Rast stava portando nei teamfight non è altro che aggiungere benzina al fuoco per lui ma vediamo se basterà perché ormai l'abbiamo anzionato ferite gravi sono presenti in elementari avversari ottima aggressione qua da parte di Kevin che sta iniziando a minacciare in maniera molto concreta il suo avversario ma il pezzo forte entra in scena l'1-2 da parte di Morphe con questi pugni sta minacciando concretamente i danni di Kevin che adesso si ritira farà lasciare il resto del lavoro al suo pet ma occhio sulla corsia centrale un campione è già morto e questo è Rast il quarto colpo porterà Fainster a guadagnare a meno con l'uccisione lo shutdown è dalla sua Massin ripulisce con una doppia uccisione vorrebbe quasi anche raccogliere le spoglie di Iori che sta passeggiando con pochissime HP davanti a lui Nautilus è creduto per proteggere il suo tiratore guarda quanti danni sta portando questo Swain e che bellissimo per la schiacciata di Ai che se ne porta a casa due è un 4x2 a favore dello Z team che adesso stanno pushando dritti verso la mid lane e non c'è niente che possa davvero arrestarli Iorik porta quanto vuoi nell'1v1 ma ha perso anche l'1v1 contro 7 adesso si ritrova in una situazione disastrosa pazzesco Swain Sinner sta giocando una partita che non definisco perfetta perché comunque ha avuto delle smaccature delle sbavature dei posizionamenti ogni tanto discutibili ma per il resto mio Dio già quel teletrasporto purtroppo è stata una costosa macchia su quello che altrimenti è un curriculum splendente da parte sua in questa partita 6-1-11 17 in totale di kill participation sulle 22 della squadra Dio mio che fantastica performance in un ruolo anche abbastanza insolito che ci stavamo un po' preventivando quando arriveranno questi maghi dalla botlane quando si inizierà a passare su questo lato ulteriore del potenziale di carry della corsia inferiore quando ci si renderà conto che questi ad carry magari non sono la via più comoda verso il futuro e per adesso sta funzionando alla grande e aggiungo un dettaglio guarda quella cintura del gigante guarda quella bacchetta distruttiva quello a breve sarà un abbraccio demoniaco quando Swain riesce a trovare lo stato da double mask con una clessitra di zonia può sciogliere un team e non ho usato volontariamente l'appellativo lentamente sciogliere un team perché è veramente veloce nel continuare a fare dps a tutti wow flash ancora che trova soltanto il muro ma permette comunque al braccio di entrare in range per una carica e le profondità occhi puntati su Kane vuole cercare un inserimento nella backline ma non trova nessuno e Syndra ancora una volta in mezzo al team avversario può cercare di portare i suoi danni Jin un balzo un po' sfortunato che la porta in mezzo a tutto il team e l'annientamento è chiaro è diretto nonostante cerchino di rispondere il team Iknos i danni ormai sono più che prepotenti è un 4x2 per adesso ma potrebbe presto diventare una pesante pesantissima carneficina Farisca in fuga vuole trovare il pezzo mancante del puzzle per completare la sua fuga verso la salvezza ma non sarà facile il drago è già sotto attacco lo Z team vuole portarsi a quel soul point e Morphen sta cacciando il gallo dal fiume alla fine sarà drago sarà quel soul point l'avevi appena chiamato e viene conquistato in tranquillità Swain ha dei danni surreali e adesso non gli resta che resettare dopo l'obiettivo per chiudere quel tanto agognato abbraccio demoniaco la doppia maschera è online wow burn damage over time resistenze bonus se già prima era difficile uccidere questo Swain adesso ci stiamo avvicinando all'impossibile e parlando di oggetti che poi verranno costruiti quella braccia demoniaco sta per arrivare anche nell'inventario di Amumu lo vediamo abbiamo già la cintura del gigante un po' di potere magico ha avuto uno step intermedio sulle ferite gravi passive che va a ottenere grazie a quel corpetto di Rovi l'avevi già sottolineato quanto importanti fossero per via delle guarigioni costanti di Rust ed effettivamente da quando Rian ha preso ferite gravi da quando Amumu ha preso ferite gravi Rust è morto è morto è morto è morto e non poco sette morti dalla sua il conduttore di morti per quanto riguarda la sua squadra in questo momento non una fantastica presentazione in quello che adesso sta diventando un minutaggio abbastanza pesante per concedere vantaggi vantaggi che non sono così ampli a livello di gold lead nonostante le undici uccisioni che separano i due team vuole chiudere quella corazza spirituale a quel punto le guarigioni verranno amplificate ma ne parliamo dopo occhio Sinner questa volta sotto attacco colpito da molti controlli arriva la Stasi per guadagnare un po' di respiro per mettere la sua squadra di raggiungerlo e di assist Rau guarda occhio all'entrata dell'eroe potrebbe essere letale ma l'ingresso comunque avanza è inesorabile il pezzo forte ha portato Morph in mezzo al team nemico i danni si stanno spandendo e spargendo ecco arriva la prima uccisione segue anche la seconda il follow up è lento ma inesorabile il team Micros può nascondersi ma non può fuggire 5 membri dello Zeto Team stanno marciando lungo quella corsia centrale un'altra kill che segue Feinster con il suo jean unico e ultimo supersite e non penso potrà fare granché per salvare la propria squadra e alla fine niente da fare Amumu è lì a suonare la carica per la sua cavalleria sono tutti e 5 un teletrasporto che sembrava criminale che sembrava suicida e invece con delle facce sfasciate su 4 persone porta il team Zeta o alla vittoria e che vittoria 30-15 uccisioni raddoppi lo score avversario minacci fino all'ultimo i nemici di morte e con questa un po' forse triste e comica morte sulle scale della fonte della salute Goliardica Goliardica porti a casa il punto in classifica GG ben fatto una fantastica evoluzione di questi teamfights di queste schermaglie da parte dello Zeto Team dopo quello che non era stato un early game facile no però a un certo punto Swain è iniziato a scalare e abbiamo visto i danni ad area che Swain è in grado di depositare adesso Swain ha ricevuto diversi cambiamenti nel tempo perché la Riot a livello di bilanciamento stava cercando di dare un'identità a quel campione sei un mago da controllo sei un battle mage sei un jugger mago che cosa sei a un certo punto ha trovato la sua identità con il cambiamento alla Q più stretto l'arco dei fulmini ma i fulmini adesso fanno danno in tutta l'area che vanno a colpire di conseguenza non si vanno più ad arrestare tu hai un'area di danno con un cooldown che nel tempo è stato sempre più ridotto patch dopo patch adesso Swain in un teamfight la sua ascensione demoniaca fa veramente tanti danni per via della doppia maschera ma la sua Q è quella che gli permette di partorire un DPS costante mentre l'ascensione demoniaca lo rende semplicemente immortale due fattori che in un momento in cui il fattore preponderante su League of Legends è il danno voglio dire fai danno sostenuto ma tu non muori e se gli avversari vogliono cercare di bastarti e non ci riescono prima o poi muoiono loro e questo è una cosa molto importante da ascensionare perché abbiamo detto noi stessi durante la partita quando sono arrivate quelle ferite gravi per il team ZO a impedire quell'immortalità che vedevamo da Rust è arrivato anche il power up che ha reso a sua volta Swain praticamente immortale abbiamo avuto due fasi diverse di partita ben distinte ma ben definite che ha sciftato completamente il punto di potere da un team all'altro e ci ha regalato poi questa conclusione una partita che forse non può paragonarsi alla firma di Trieste che abbiamo visto ieri ma come conclusione di pasto ci lascia decisamente soddisfatti infatti era la quarta e ultima partita di questa sera quindi per stasera la trasmissione si interrompe qua noi vi ricordiamo la prossima settimana di competizione riprenderà mercoledì prossimo mercoledì e giovedì entrambi i giorni alle ore 18 saremo sempre noi Moonboy e Karen ad aspettarvi ad accompagnarvi in questa avventura dopo la prima settimana di questa regular season abbiamo visto già alcune squadre decollare già alcune squadre fare un po' più fatica a trovare i loro passi l'ingresso dagli tempo ma la strada è ancora lunga soprattutto per esplorare questa fantastica pre-season quindi come ho detto per stasera è ormai tutto da parte mia da parte del mio collega e di tutta PG Sports vi salutiamo una buona serata e alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti